Ciao a tutti, oggi siamo qui al campo di tiro Shooting Academy Club per introdurre la nuova serie di video che DR-15 andrà a realizzare insieme a DP-414, se la chiameremo Black Rifle on the field. A differenza dei video precedenti che erano una spiegazione teorica, tecnica, che voleva dare un input iniziale sulle nostre armi, i nostri prodotti, sulla scelta dei nostri prodotti, abbiamo deciso di ampliare il nostro canale con questi video che saranno lo step successivo. Saranno un passaggio che va dalla teoria che abbiamo visto finora all'uso pratico che può aiutare il tiratore nella scelta, nella decisione del setup e fargli vedere realmente l'uso della carabina. Per farlo chiaramente abbiamo deciso di appoggiarci a chi le armi le ha sempre usate, le sa usare e ha sempre fatto pratica oltre che teoria. Ecco i nostri amici della 414, DP. Ciao. Diego, grazie per l'opportunità. Mi presento semplicemente per chi magari non ha avuto opportunità di conoscermi. Sono DP, presidente dell'associazione 414 programmi addestrativi, project manager per quanto riguarda la 414 Factory e nel consiglio per quanto riguarda il poligono del 414 Training Facility. Tutto questo ci permette di non solo studiare i prodotti tramite delle prove pratiche sul terreno, ma anche di dare consulenza in questo caso come quella che mi stai dando te. Per la parte training offriamo offerte formative sia al pubblico professionale che ad un pubblico diciamo ludico sportivo, va bene? Quindi questo ci permette di avere quella conoscenza o comunque saper interpretare i feedback che arrivano direttamente dal terreno. Quindi oggi insieme a te andremo a provare queste armi nei vari setup e come hai già detto il fine dovrà essere quello di poter accompagnare il tiratore ad una scelta più accurata e più vicina alle sue esigenze, andando anche a porre attenzione su alcuni dettagli che potrebbero fare sì la differenza quanto facilitare o meno il raggiungimento del proprio obiettivo che è la performance nell'impiego delle armi. Perché facciamo questo Diego? Perché è una convinzione mia della DR-15 ma non solo perché vedo che anche il vostro, la vostra idea che ha dato poi il via a tutte le vostre attività è quella della consapevolezza, della conoscenza, di una conoscenza tecnica, di una conoscenza reale dello strumento che si viene a utilizzare. L'arma è uno strumento che può essere usato per fini lavorativi, per fini ludici, per fini sportivi, ma è uno strumento che deve essere conosciuto profondamente dall'utente, deve conoscere cosa ha nelle mani, come usarlo, come impiegarlo, come risolvere magari un piccolo problema. Una conoscenza che può derivare solamente da una parte teorica sicuramente, ma principalmente da un uso, un uso consapevole. L'uso consapevole deriva da tanto tempo passato sul campo di tiro, ma è fondamentale, come in ogni cosa che si deve imparare, qualcuno di estremamente competente che possa spiegare e chiarire le cose, accompagnarlo piano piano nella sua crescita di consapevolezza e di capacità tecniche nell'impiego di un'arma da fuoco che non è una cosa da prendere alla leggera. Bene, allora ragazzi non ci rimane altro che metterci sul campo e provare. Certamente. Va bene? Quindi al lavoro. Al lavoro, seguiteci.